La mia canzone di che cosa? È una bella trasmissione televisiva che tu hai fatto, che però rispecchia moltissimo lo spirito della rivista. Tu hai fatto questa trasmissione che praticamente ogni settimana cambiava il protagonista maschile al tuo fianco, come una vera subrette, cioè ti sei scelta tutti i partner in ditta che volevi di settimana in settimana. Questo in televisione. Esatto, e quindi arrivavi fuori da sola, mi pare, in questa trasmissione all'inizio e cominciavi a dire una cosa che aspetta, fammi ricordare, faceva come? Lauretta Masiera. La mia canzone è sempre più bella, ogni donna si va, poi nello specchio si guarda e sorridendo dirà Qui ci vuole un uomo, e qui ci vuole un uomo, qui ci vuole un uomo, sempre così sarà. E qui ci vuole un uomo, sempre così sarà. L'uomo. L'uomo. L'uomo che lo sa, ne approfitterà. Si farà pregare e persi e persi dire. Qui ci vuole un uomo, e qui ci vuole un uomo, e qui ci vuole un uomo. E qui ci vuole un uomo, sempre così sarà. tutta questa paura